Gubbio Pistoese è la partita clou della 17esima giornata del campionato di Lega Pro, girone B. Di fronte si trovano due squadre appaiate al quinto posto della classifica, anche se con percorsi diversi. La Pistoese è su di giri, grazie alla vittoria contro il Pisa. Gli Umbri, di Acori, rappresentano al momento quanto di meglio ci possa essere in questo girone. Sono reddici da quattro vittorie consecutive. Le due squadre si affrontano sabato sera per la nona volta nella loro storia sportiva. I trascorsi arancioni sono straordinari, con quattro vittorie e altrettanti pareggi. Gubbio gioca con un 4-1-4-1, poi in fase di possesso si trasforma in un 4-3-3. È una squadra dalle capacità fisiche e atletiche notevoli, forse superiore alle nostre, in termini di velocità e di forza. Quindi sarà una partita per noi difficilissima. Oltretutto loro hanno un giocatore come Loviso, che io conosco, che ha già segnato 8 gol, di cui 7 sul calcio di punizione. Calcio addirittura meglio di Grassi del Ponte d'Era. Quindi è una partita domani di una difficoltà enorme, perché troveremo una squadra, dal punto di vista fisico, che corre forse più di noi, anche più di noi. Che ha grandissime motivazioni, che soprattutto è un momento di grazia, perché le quattro vittorie nelle ultime quattro partite, con 12 gol fatti e due subiti, insomma la dicono lunga su quella che è la forza in questo momento di questa squadra. La Pistonesa quali armi dovrà presentare per fermare questa formazione? Corsa, spirito di sacrificio, queste sono le due armi, forse anche a discapito del calcio propositivo che abbiamo sempre cercato di proporre fino a questo momento. Perché domani sarà una partita di grande corsa, io ho visto gli attaccanti loro, sono i primi difensori. È una squadra che va sempre in pressione forte sul portatore di palla avversario, inducendolo all'errore. E poi è una squadra che ha delle ripartenze devastanti, quindi dovremmo stare concentrati e non concedere al loro campo, non concedere loro gli spazi, perché sono devastanti.